Grazie a tutti. In Bologna, senza via di mezzo, siamo qua alla pizzeria Altero, intervistiamo due persone che ne sanno un tot della pizzeria Altero. Poi è sempre buonona la pizzeria di Altero. Quella al cioccolato poi è fantastico. Hai preso quella lì? Quella al cioccolato e poi hai chiesto anche la Giambuia. Ma l'hai presa doppia? Una Giambuia e una cioccolata. Stai casinato. Esatto. Ma è meglio Altero qui o quell'altro in via Ugo Bassi? Questa, questa. Perché? Perché qua è buonona. Di là è un po' bruciata. Ma di là dove? Di là Ugo Bassi. Ma c'è Altero anche al mare? No, era chiuso. Era in via di Ceccarina. Ah, ok. Ha chiuso. Però è sempre buonona la pizzeria. Era buonona però. Non c'era nessuno. Ma era buonona lì? Era buonona, dai. Sì. E lì da Magnifica è buonona. Sì. 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 Sì.